Con questo tutorial andiamo a semplificare i radicali dopo averne verificato le condizioni di esistenza. Partiamo da questo esempio. Qui ho radice nona, quindi l'indice dispari. Siccome che qui all'interno ho un polinomio non devo andare a fare nessuna condizione di esistenza e posso iniziare subito la semplificazione e posso andare a scrivere radice nona, metto in evidenza una potenza 3 e scrivere 3x. Infatti 3 alla terza ottengo 27, x alla terza ottengo proprio x alla terza. Ora che ho un unico esponente posso andare a semplificare con l'indice 9 e 3 diviso 3 ottengo 1 e 9 diviso 3 ottengo 3 e allora ottengo come risultato radice terza di 3x. In quest'altro esempio osservo che l'indice è pari e devo andare a porre questa quantità maggiore o uguale a 0. Siccome che ho a al quadrato, certamente questa quantità è una quantità maggiore o uguale a 0. Osservo ora che qui ho x alla quarta. x alla quarta anch'essa è una quantità maggiore o uguale a 0, ma stando al denominatore devo andare a porre che questa quantità x deve essere diversa da 0 e allora sicuramente come condizione di esistenza devo andare a porre denominatore diverso da 0, ossia x diverso da 0. Osservo che se qui al posto della x avessi messo proprio 0 avrei ottenuto una quantità che non avrebbe avuto senso. Ora posso andare a semplificare. Qui ho questo 4 che posso pensare scritto come 2 alla seconda, poi ho un 2 e un 4 e allora posso andare a mettere in evidenza un 2. Ora avendo un unico esponente posso andare a semplificare con 8 e allora 2 diviso 2 fa 1, 8 diviso 2 fa 4. In teoria quello che mi rimane è radice quarta di 2a fratto x alla seconda. Osservo che la soluzione scritta così non va bene perché ottengo un termine di grado dispari e mi devo garantire che questa quantità deve essere una quantità maggiore o uguale a 0 e allora devo andare a aggiungere il modulo di a. In altre parole ogni qualvolta che ho radice quarta di a alla seconda quando vado a semplificare l'esponente con l'indice quello che ottengo se ha una potenza dispari la devo sempre andare a mettere all'interno del valore assoluto. Vediamo questi altri esempi, osservo che in questo radicale ho radice sesta e allora mi devo garantire che questa quantità e questa quantità devono essere maggiore o uguale a 0. Siccome che b è elevato ad una potenza pari certamente è una quantità non negativa, mentre qui ho a alla terza che può essere minore di 0 e allora devo andare a mettere che come condizione di esistenza a deve essere una quantità maggiore o uguale a 0. Ora posso andare a semplificare questo radicale e vado a scrivere radice sesta, allora tra 3 e 6 metto in evidenza un 3 e scrivo elevato alla terza e mi rimane a b alla seconda. Posso ora andare a semplificare questo 3 con questo 6, 3 diviso 3 fa 1 e 6 diviso 3 ottengo 2 e allora quello che mi rimane è radice quadrata di a b alla seconda. In questo caso non vado a mettere il valore assoluto di a anche se l'esponente di grado dispari perché avevo messo come campo di esistenza che a doveva essere una quantità maggiore o uguale a 0. Vediamo quest'altro esempio, l'indice è pari ma osservo che ho x alla quarta e y alla decima, quindi già so che sia questa quantità che questa quantità certamente sono maggiori o uguali a 0. Ora vediamo come poter semplificare questo radicale. 64 lo penso scritto come 8 alla seconda. Ora tra 2, 4 e 10 posso mettere una potenza 2 in evidenza. Ed ora che ho un unico esponente vado a semplificare 2 diviso 2 fa 1 e 10 diviso 2 ottengo 5. Avendo ottenuto per y una potenza dispari, qui devo andare a aggiungere un valore assoluto e allora devo andare a scrivere radice quinta di 8x alla seconda modulo di y alla quinta. Vediamo questi altri esempi. Osservo che qui ho radice quarta, quindi è un indice pari e mi devo garantire che questa quantità deve essere maggiore o uguale a 0. Siccome che a meno 1 è elevato alla seconda, certamente questa quantità è maggiore o uguale a 0. Ora che ho fatto questo controllo sul campo di esistenza e quindi ottengo che non devo andare a mettere nessuna condizione, posso iniziare la semplificazione di questo radicale. 16 lo penso scritto come 4 alla seconda. Ora qui posso andare a mettere in evidenza la potenza 2. Ed ora che ho un unico esponente, posso andare a semplificare 2 diviso 2 fa 1 e 4 diviso 2 fa 2 ed ottengo radice quadrata di 4 che moltiplica a meno 1. Siccome che a meno 1 ha esponenti dispari, cioè elevato alla 1, questo fattore lo devo mettere all'interno del valore assoluto e allora devo andare a scrivere radice quadrata di 4 per il modulo di a meno 1. Vediamo questo altro esempio. Osservo che qui l'indice è pari. Per andare a fare il campo di esistenza mi devo garantire che questa quantità e questa quantità devono essere maggiori o uguali a 0. Siccome che entrambi i fattori hanno una potenza pari, 2 e 4, non devo escludere nulla dal campo di esistenza. Vediamo ora cosa poter semplificare. Qui ho 2, qui ho 4, quindi posso mettere in evidenza una potenza 2. Ora che ho un'unica potenza posso andare a semplificare con 6, quindi 2 diviso 2 fa 1 e 6 diviso 2 ottengo 3. Ho così radice terza di a per a più 3 alla seconda. Siccome che questa quantità ha un esponente dispari, cioè 1, allora a la devo andare a mettere all'interno del valore assoluto e vado a riscrivere radice terza di modulo di a che moltiplica a più 3 alla seconda. Vediamo questi altri esempi. Osservo che qui l'indice è di grado pari e allora devo andare a fare le condizioni di esistenza andando a porre a alla terza maggiore o uguale a 0 e quindi devo scrivere che a deve essere una quantità certamente maggiore o uguale a 0. Osservo poi che a denominatore obb è la sesta. Certamente questa quantità è una quantità maggiore o uguale a 0, ma b si trova a denominatore, quindi non può essere uguale a 0 e devo porre che b deve essere certamente diverso da 0. Ora che ho determinato le condizioni di esistenza vado a semplificare questo radicale. Osservo che 8 lo posso scrivere come 2 alla terza. Ed ora tra 3, 3 e 6 posso andare a mettere una potenza 3 in evidenza e scrivo radice sesta tutto quanto alla terza 2a fratto b alla seconda. Ora che ho un unico esponente posso andare a semplificare con 6. 3 diviso 3 fa 1 e 6 diviso 3 fa 2, quindi mi rimane 2a fratto b alla seconda. Osservo che dopo la semplificazione a è elevata ad una potenza dispari, quindi in teoria dovrei andare a mettere questa quantità all'interno del valore assoluto per garantirmi che a deve essere maggiore o uguale a 0. Ma in questo caso non lo vado a fare perché avevo già imposto nella condizione di esistenza che a è maggiore o uguale a 0. Vediamo quest'altro esempio. Osservo che questa quantità non è nient'altro che un quadrato di binomio e quindi posso andare a riscrivere in questo modo, radice quadrata di x meno 3 tutto quanto al quadrato. Per quanto riguarda le condizioni di esistenza, devo andare a porre questa quantità maggiore o uguale a 0, ma siccome che questa quantità è elevata ad una potenza pari, certamente essa non può essere minore di 0, quindi dal campo di esistenza non va ad escludere alcun valore. Ora posso effettuare la semplificazione di 2 con la radice quadrata, quindi tolgo il 2 e tolgo la radice quadrata. Quello che mi rimane x meno 3 è elevato ad una potenza dispari e allora devo andare a mettere x meno 3 all'interno di un valore assoluto. Vediamo questi ultimi due esempi. Osservo che questa quantità è un quadrato di binomio e posso andare a riscrivere come radice quadrata di a alla seconda meno 4 tutto quanto alla seconda. Per quanto riguarda il campo di esistenza, osservo che questa quantità è elevata a una quantità pari, quindi già so che è una quantità maggiore o uguale a 0, quindi non devo escludere alcun valore. Semplifico ora 2 con la radice quadrata e quindi 2 diviso 2 fa 1 e tolgo la radice quadrata. Quello che mi rimane alla seconda meno 4 è elevata ad una potenza dispari, cioè tutto quanto alla 1 e allora devo andare a riscrivere alla seconda meno 4 all'interno di un valore assoluto. Vediamo questo ultimo caso. Vado a fare le condizioni di esistenza. Osservo che ho a alla seconda x alla seconda. Ho due fattori le cui potenze sono pari, quindi non devo andare a imporre nessuna condizione di esistenza. Ora vado a effettuare la semplificazione. 4 lo penso scritto come 2 alla seconda e scrivo 2 alla seconda per a alla seconda per x alla seconda. Posso ora mettere in evidenza una potenza 2 e ottengo 2ax ed ora vado a semplificare il 2 con la radice quadrata. Quindi tolgo il 2 e tolgo la radice quadrata. Osservo che mi rimane a elevata ad una potenza dispari, cioè a alla 1, ed x elevata ad una potenza dispari, cioè x alla 1. E allora sia a che x li devo andare a mettere all'interno di un valore assoluto e scrivo 2 modulo di ax. E con questo termino il tutorial sulla condizione di esistenza e la semplificazione di radicali.